Un master sul modello abbateggio e la cerimonia di premiazione in una location completamente rinnovata. Sono alcune delle novità della 22esima edizione del Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica Parco Maiella, organizzato dall'Associazione alle Falde della Maiella di Abbateggio, sotto legida del Centro Scuola e Cultura Italiana di Toronto. A Pescara il presidente del Premio, Antonio Di Marco, insieme al presidente dell'Associazione, Gabriele Di Pierdomenico, ai componenti della direzione artistica Marco Presutti e della giuria Alfredo Mazzoni, e a Giuseppe Ferrante della segreteria del Premio, ha presentato il bando appena pubblicato per invitare scrittori, poeti e giornalisti ad inviare i propri lavori. Una 22esima edizione che fa capire che è un progetto su cui crede fortemente l'Associazione alle Falde della Maiella e tra l'altro investirà tantissimo per la sezione che sarà quella che verrà messa a disposizione proprio dei ragazzi delle scuole superiori della provincia di Pescara affinché si possano confrontare con gli autori, leggere, approfondire e evidentemente anche incardinare con gli autori stessi un processo anche di confronto utile a capire quali sono gli interessi veri della società odierna rispetto ai temi dell'ambiente. Quindi il Premio Maiella evoca tutto questo e sarà anche un'edizione che coinvolgerà ulteriormente altri enti a livello anche nazionale e abbiamo anche raggiunto una notorietà oltre confine, quindi confidiamo anche in presenze estere. Sono sei le sezioni previste dal concorso letterario a tema o contesto naturalistico ambientale, come ha ricordato il professor Presutti. Possiamo presentare domande delle varie sezioni, dalla narrativa edita, quella inedita, la poesia edita inedita, la saggistica, gli articoli di giornale che è una sezione a cui ci attendiamo molto. Entro il 30 aprile si inviano le prove dove è previsto, dopodiché ci saranno due riunioni della giuria il 26 maggio e il 18 giugno e quindi dopo l'individuazione dell'opera vincitrice nelle varie sezioni e delle opere meritevoli di premi speciali ci sarà poi la serata finale del 20 luglio ovviamente alle falde da Maiella ad Abbateggio perché questo è un po' il senso del ritrovarsi nella natura. Insomma è un premio che presuppone intelligenza critica ed è quell'intelligenza ambientale e relazionale che il premio vuole sviluppare.